Amica Cips è al centro di una polemica per uno spot televisivo ritenuto blasfemo. Mostra un sacerdote che dà una patatina ad una novizia anziché l'ostia. La reazione è stata immediata, con critiche da parte del presidente, dell'Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione di Ispirazione Cattolica e dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Lo spot è stato descritto come mancanza di rispetto e creatività. Amica Cips ha una storia di pubblicità provocatorie, come quella con Rocco Siffredi. Resta da vedere se lo spot verrà sospeso a causa delle critiche.